Allora, già trovare il perimetro e l'area della regione finita di piano individuata dal sistema che vedete dato Prima cosa si trovano i quattro semipiani individuati dalle quattro disequazioni ormai la procedura è nota, non sto a ripetere e intersecandoli viene fuori che la zona individuata è costituita da un trapezio rettangolo che ha per vertici i quattro punti che vedete riportati A, B, C e D, le cui coordinate si trovano intersecando le rette opportune quindi bisogna trovare il perimetro e l'area di questo trapezio le due basi sono i lati B, C e A, D e l'altezza è C, D quindi si trovano queste misure allora una volta che abbiamo le due basi e l'altezza immediato trovare l'area per il perimetro bisogna trovare anche il quarto lato A, B dopodiché si sommano i lati e si ottiene il valore che vedete indicato questi tre esercizi sono date delle regioni piane bisogna trovare i sistemi di disequazioni che le individuano allora nel primo caso le rette che ho indicato con R1, R2, R3 hanno le equazioni che vedete la retta R1 passa per il punto A di coordinate meno 2 e 5 il terzo è che ha l'asse Y nel punto di ordinata 3 quindi si scrive l'equazione della retta passante per quei due punti e si ottiene Y meno 3 uguale a meno X per capire quale semipiano individua prendiamo l'origine che non appartiene se sostituiamo l'origine il primo membro resta meno 3 il secondo membro è 0 meno 3 è minore di 0 quindi il semipiano individuato è quello che non contiene l'origine e quindi è Y meno 3 maggiore di meno X perché la zona individuata non contiene l'origine quindi devo prendere il semipiano che non contiene l'origine quindi nella disequazione devo mettere il predicato maggiore che mettendo il predicato maggiore e sostituendo le coordinate all'origine rimane meno 3 maggiore di 0 che è una eseguaglianza falsa poi retta R2 è parallela all'asse Y e passa per il punto di ascissa meno 2 quindi la sua equazione è X uguale a meno 2 infine la retta R3 passa per il punto di ordinata 5 quindi la sua equazione è Y uguale a 5 e allora il sistema di disequazioni è chiaramente Y meno 3 maggiore di meno X X maggiore di meno 2 ecco scusate l'ultima è sbagliata non c'è e la retta R2 serve solo per trovare il punto per cui passa la retta R1 quindi il sistema è costituito la X può assumere nella zona tratteggiata qualunque valore non mi sono accorto quindi la seconda disequazione del sistema non ci va è solo Y meno 3 maggiore di meno X e Y maggiore uguale di 5 nel secondo sistema ecco la zona che cos'è? non è altro che un parallelogramma quindi è l'intersezione tra due strisce di rette una costituita dalle rette R1 e R2 che hanno rispettivamente equazione Y uguale a 1 Y uguale a 6 quindi vuol dire che la Y deve essere compresa tra 1 e 6 estremi esclusi gli altri due lati della striscia partengono alle rette R3 e R4 e i punti di queste rette sono compresi nella zona perché c'è il tratto continuo e non quello punteggiato bisogna trovare le equazioni di queste due rette parallele la R3 passa per il punto di anzi cominciamo dalla R4 la R4 passa per il punto di coordinate meno 4,1 e per il punto di coordinate 0,6 quell'altra è una sua parallela che passa per il punto di coordinate meno 8 e 0 quindi la prima scusate è la R4 ho detto che passa per il punto di coordinate meno 1,1 ma ho sbagliato passa per il punto di coordinate meno 4,0 e per il punto di coordinate 0,6 l'altra la R3 è parallela a essa quindi ha lo stesso coefficiente angolare ma passa per il punto di coordinate meno 8,0 quindi le equazioni R3 ho usato la forma segmentaria visto che passa per due punti che intersecano gli assi cartesiani e si ottiene meno 3x più 2y uguale a 12 e di conseguenza ha coefficiente angolare 3 mezzi la R4 dicevamo passa per il punto di coordinate meno 8,0 e a coefficiente angolare 3 mezzi i simipiani individuati da R1 e R4 chiaramente come si vedeva dal disegno non contengono l'origine e quindi y deve essere maggiore di 1 e y deve essere maggiore o uguale di 3 mezzi x più 12 mentre quelli individuati da R2 e R3 contengono l'origine e di conseguenza i predicati sono quelli che vedete lì il sistema è quello che vedete scritto sotto nell'ultimo invece era chiaramente un rettangolo che ha perlati adesso non torno su col disegno ma potete andare a verificarlo ha perlati le quattro rette che vedete tutti i semipiani individuati da queste rette frontiere contengono l'origine e perciò il sistema è quello che vedete scritto lì sotto questo esercizio la zona chiaramente è una striscia che ha perlati le rette R e S quindi bisogna trovare le loro equazioni la retta R passa per i punti di coordinate 4, 0 e 0, 5 quindi usiamo l'equazione segmentaria e si ottiene 5x più 4y uguale a 20 quell'altra è una sua parallela passante per l'origine quindi non deve avere il termine noto perciò è 5x più 4y uguale a 0 semipiano individuato dalla retta R contiene l'origine quindi ci va il predicato minore minore uguale perché c'è il tratto continuo mentre per l'altra contiene il punto di coordinate 4, 0 e perciò ci va il predicato maggiore quindi il sistema è quello che vedete lì e il video è concluso che ci va perciò perciò